buongiorno a tutti allora innanzitutto magliettina di sportando e dintorno il nostro gruppo facebook penso che si veda bene eccola qua detto questo fatto con la sponsorizzazione andiamo a parlare della semifinali della partita di serie b quindi per l'ultima partita della finale dei playoff di serie b che vedeva il verona costretto a rimontare il 2 a 0 dell'andata che gli ha rifilato il cittadella anche grazie alle parate di paleale ahimè per il cittadella la partita di ritorno è stata un massacro in tutti i sensi pronti via il verona assediato letteralmente il cittadella paleari ha iniziato di nuovo a far miracoli ha fatto una doppia parata nella stessa azione tiro la respinge la riprende l'avversario ritira la rispinge ancora quindi già si capiva come era l'andazzo poi al 27esimo il verone è passato in vantaggio quindi dopo quando tu devi rimontare un 2 a 0 per di più non non hai l'obbligo di vincere 3 a 0 ti basta comunque vincere 2 a 0 e passi il turno lo stesso non è come nelle partite di andate a ritorno in cui hai perso all'andata 2 a 0 se vai 2 a 0 si vai supplementari al verona bastava vincere 2 a 0 quindi passi in vantaggio intorno alla mezz'ora del primo tempo hai tutto il tempo ai 60 minuti di tempo poi per fare il secondo quindi la cosa importante non è tanto andare subito all'attacco a fare il 2 a 0 ma tenere l'avversario sempre sotto pressione e con calma trovare il secondo evitando di prendere il gol del pareggio che poi ti avrebbe obbligato a fare comunque una vittoria con due gol di scarto quindi rissegnare altri due gol proprio perché avevi il vantaggio di aver finito il campionato davanti al cittadella in più come se non bastasse parodi al 62esimo prima che il verona segnasse il 2 a 0 si è fatto espellere per doppia munizione il verona ne ha approfittato ulteriormente già stava mettendo sotto pressione un cittadella alle corde e con di carmine era addoppiato tra l'altro il gollettino di tacco libidine quindi 2 a 0 2 a 0 poi ancora recuperare ti basta segnare un gol proia cosa fa un fallo stupidissimo a centrocampo e si becca al secondo giallo ed esce anche lui quindi già sei in 10 ancora ancora in 10 puoi cercare di fare quando sei rimasto in 9 e poi dopo è stato inutile che proia si sia messo la sua magliettina sulla faccia come a dire ho fatto una cazzata immonda perché per di più era un fallo inutile veramente in classica vecchietta da dietro ginocchiata dal colpo da dietro che si dir si voglia su un pallone che arrivava a un giocatore appena dopo la metà campo non è che stavano facendo chissà che azione per di più pronti via l'arbitro ha fatto capire subito di voler tenere la partita a freno tirando fuori quattro cinque gialli subito nel primo tempo se non di più e già nei primi minuti primi falli amariglia ma tutte e due non è che ha che uno diceva beh grazie tante ha monito solo quello no no moniva giocatori di entrambe le squadre anzi inizialmente quasi più quelli del verona che non quelli del cittadella alla fine erano due a due o tre a tre per di gialli per parte se non di più non è che sono stato a contarli tutti però devo dire che l'arbitro ha preferito usare subito il pugno duro perché ha capito che la partita si sarebbe incattivita quindi meglio prevenire meglio che curare come si suol dire naturalmente è rimasto in nove il cittadella poi ha preso il gol anche di laribi in contropiede che si è lanciato in contropiede portiere gli è uscito fuori dall'aria lui l'ha saltato come un bicchier d'acqua e poi a porta vuota ha depositato comodamente la palla in rete per il 3 a 0 quindi verona che si aggiunge a brescia e lecce in serie a vedremo cosa combinerà sicuramente le squadre che quest'anno si sono salvate non è che saranno molto felici di avere tre squadre così che vengono dalla serie b vedremo se l'anno prossimo vale la solita regola che tre salgono e due scendono perché ultimamente tre squadre dalla serie b vengono in serie a l'anno successivo due di queste tornano in serie b e una si salva vedremo se anche l'anno prossimo due torneranno in b e una si salverà oppure vista che comunque signori miei brescia lecce e verona sono tre squadre che alla serie a diciamo che erano abbastanza abituate anche se un po che non ritornavano in serie a vediamo cosa costruiranno durante il mercato estivo e se riusciranno a fare una squadra sulla carta perché poi non vuol dire perché il verona era stato costruito per venire in serie a direttamente anche perché veniva dalla appunto era appena retrocesso dalla serie a e è arrivato sesto che poi è diventato quinto perché il palermo è quindi non vuol dire nulla uno magari vede guardate lecce ha fatto una campagna acquisti pazzesca ha preso questo questo quell'altro e poi magari mi fa il chievo della situazione ho detto il lecce per dire un nome il brescia è già messo molto bene se dovesse tenere tonali e costruirgli attorno una bella squadra potrebbe tranquillamente fare molto bene però l'impatto dalla serie b alla serie a è sempre e se inizi subito male poi diventa difficile poi cominci magari a cambiare l'allenatore tutto quanto però è tutto in divenire il mercato finisce il 2 settembre ve lo ricordo infatti ci faremo due maroni e mezzo a parlare di mercato vedremo cosa succederà vedremo cosa succederà e sono curioso perché bene rivedere brescia lecce e verona in serie a mi fa solo piacere sembra di essere tornato agli anni 80 e adesso vedremo cosa faranno di salernitana venezia se fanno i playoff se non magari non le mandano in b così hanno 20 squadre in c scusate in lega pro una delle due le promuovono tuttanto oramai la serie b sta diventando una comica vedremo vedremo se dovessero fare i play out o li hanno già fatti adesso controllerò ve ne parlerò sicuramente detto questo io vi saluto vi ringrazio mi appresto a fare il video che riguarda invece la nazionale dei piccolini della nostra under 17 e quindi le due partite che si sono giocate ieri ciao